Andiamo a vedere con la pratica appunto di questo tracking e di questo THD e di prime riflessioni su un file di esempio. Abbiamo il nostro generatore di sinusoide, ovviamente ve lo spengo così non diventate matti. Tramite un analizzatore di spettro andiamo a vedere che cos'è questa nostra nota. Questa qui è la nostra nota che possiamo spostare nel nostro spettro come più ci pare. E questo è quello che succede diciamo alla vostra voce quando registrate in una scheda audio diciamo da home studio. Quello che manca e quello che è stato misurato proprio fisicamente più volte in preamplificatori, in compressori, sono appunto il THD. Ossia se noi andiamo con un plugin di simulazione come può essere ad esempio l'NLS Channel della Waves, vedete che andiamo a generare queste armoniche. Questa serie di armoniche, le possiamo anche sentire, questa serie di armoniche cosa andrà a fare? Andrà ad aiutare appunto la percezione di questa nota principale tramite la presenza di queste armoniche. Quindi il nostro cervello riesce a ricostruire anche solo da quelle tre che in realtà c'è una nota principale che ci aspetta più in basso nello spettro. Quindi durante la nostra fase di incisione, una volta che è finita, dobbiamo poi andarle a riaggiungere perché queste sono tutte frequenze che appunto servono. Come potete vedere ci sono delle spuri ovviamente a bassa frequenza, poi queste cose le sistemiamo in mix ovviamente. Mio trick molto molto personale, io non lo uso mai in questo modo perché diciamo che il colore di saturazione che più mi ricorda quello che ho sentito nei grandi studi in cui ho lavorato, non proviene mai da se ne aggiungo un pochino, facciamo che aggiungo un 3%, non è mai lì. Io faccio una cosa un po' violenta che ora vi mostro, ossia lo tiro al massimo, lo tiro al massimo e accendo anche il tasto mic. Non vi preoccupate, so che ora è completamente folle. Ok, stiamo tutti tranquilli. Cosa faccio? Prima di entrare nell'NLS Channel vado a mettere un qualsiasi plugin che mi permetta di regolarne il gain. Quindi io entro basso, appunto come se fosse un microfono a meno 30, a meno 30, a meno 20, poi dipende un po' da quello che precede questo equalizzatore, ma vado al massimo in questo plugin. Che cosa mi consente questa tecnica? Mi consente di simulare una cosa che molto spesso non viene mai simulata in the box, cioè il fatto che a un certo livello il suono si rompe, ossia clippa e si spacca. Se noi andiamo a controllare a 0 dBFS questo canale e andiamo a spingere, vedete che dopo un po' il mio canale diventa praticamente un clipper, che è quello che succede nei preamplificatori. Signor, i preamplificatori non hanno gain infinito, le nostre DOV sì, ed è un problema, perché molto spesso si vanno a spingere i suoni troppo in alto, si va a spingere, diciamo, dove poi alcuni plugin suonano male. In questo modo che uso io, so che non è il modo in cui il manuale vi dice di usare l'NLS, ma la cosa importante è questa, leggere i manuali e poi ignorarli, che è il mio sport preferito, io in questo modo ho trovato un modo di simulare appunto un comportamento, che poi possiamo cambiare con preamplificatori diversi, il comportamento di un vero preamplificatore. Vi racconto una storia molto molto forte. Eravamo all'Air Studios di Londra, stavamo facendo pianoforte e archi praticamente per una... Oddio, mi sa che non lo posso dire, diciamo uno molto famoso in Italia, ok? E stavamo facendo archi bellissimi, una roba, un'orchestra, bravissimi, microfoni fantastici e tutto. E stavo dando una mano. Noi eravamo lì e ho detto, quando mi ricapita? E io, da buon, diciamo, ingegnere che legge manuali, avevo fatto i miei gain sui preamplificatori, per stare, bello, sai, tra meno 28, meno 24, massimo meno 18, basso basso, tutto giusto. E' arrivato Neil, il proprietario, e mi ha tirato uno scapellotto che non dimenticherò mai nella mia vita, che mi fa, stai usando al 2% questa cosa che noi paghiamo solo per tenerla accesa, praticamente 4.000 sterline al mese di corrente, pagavano, una roba folle. Praticamente cosa mi ha fatto vedere? Che loro tiravano questi preamplificatori NIV praticamente al massimo, cioè quello che stavamo facendo prima con la NLS. Proprio li facevano urlare. Poi cosa facevano? Tramite lo small fader di questo mixer NIV, andavano ad attenuare il volume per entrare correttamente dove volevo entrare anch'io, tra i meno 24 e i meno 18 di BFS in registrazione. Lì è l'unity gain del convertitore, ma non dove suona bene un preamplificatore. Questo è uno, diciamo, di quelle certezze che avevo nella vita, che mi è stata distrutta in uno studio dove poi effettivamente ci fanno anche la cronano sonora di Harry Potter, quindi scemi scemi non sono, poi Harry Potter è forte. Quindi da questa cosa cosa ho capito? Di non avere paura di clippare in fase di mix, ma aver paura di clippare invece in uno studio, perché ricordati che la tua scheda audio non è assolutamente in grado di comportarsi come un preamplificatore outboard esterno, quindi di poter saturare l'ingresso entrando veramente proprio con il led clip rosso senza distorcere troppo. Lì purtroppo è dove un preamplificatore esterno ti può dare una mano. Il mio sport preferito in home studio, se voglio ottenere quel tipo di suono appunto più grosso, con più armoniche, che si mixava anche più facile, è quello di mettere praticamente un attenuatore prima della scheda audio. Quindi cosa faccio? Prendo un preamplificatore qualsiasi, lo tiro a stecca, li faccio veramente urlare, poi con un riduttore di volume passivo, come può essere un controller per i monitor di quelli che appunto non vanno alimentati, vado a ridurre il volume che entra nel computer per andare a colpire la mia DAC, ossia, scusate, per andare a colpire la mia ADC, ossia dove il segnale verrà convertito da analogico a digitale, invece a livello giusto, perché loro facevano così, praticamente fanno urlare i preamplificatori e poi entrano morbidi morbidi, appunto a meno 24, meno 28 di BFS. Ovviamente non è un valore universale, ogni scheda audio ha il suo unity gain, ad esempio le Focusrite sono un pochino più in alto, l'abbiamo misurato in laboratorio, è tra i meno 18 e invece i meno 12, hanno pensato un po' all'Home Studio, sapevano che la gente sarebbe entrata più in alto e hanno, diciamo, si sono adeguati di conseguenza. Iniziamo a mettere innanzitutto un preamplificatore, perché abbiamo detto appunto che la Behringer non ha abbastanza armoniche per poter darci un suono, diciamo, professionale. Quindi vado ad abbassare il mio gain, vado a tirare il mio drive al massimo come un pazzo, ma ora tra poco capirete che non lo sono. Fuori al freddo nella luce di galassie ormai è stintesi, la carne sulla terra e l'anima negli inferi. Finché state in un range, ho misurato praticamente, tra i meno 12 e i meno 10 non avete tantissima proprio distorsione, cioè quando il THD supera la tonica. Diciamo tra i meno 12 e i meno 10 avete già una buona quantità di armoniche, lo possiamo verificare con un tone generator e un analyzer, come abbiamo fatto prima. Vedete che... Vedete che già meno 12 sono presenti delle armoniche, ovviamente se andiamo a spingere poi esageriamo, però in questo caso stiamo aggiungendo tutte queste armoniche alla nostra voce. Possiamo poi andare a scegliere canali diversi, sapete che l'NLS ha diverse, cioè sono andati a campionare canale per canale di questo SSL o di questo NIV e andiamo a scegliere quello che ci piace di più. Ovviamente se esageriamo... Oh, questo mi piace molto. Numero 4, non mi piace sempre, è sempre uno dei miei canali preferiti. Oppure possiamo decidere di entrare in un altro tipo di preamplificatore, ma in questo caso rimarrò sullo SSL che è un suono che ha un pochino più di push sulle media che mi piace un po' di più e mi aiuterà a tenere questa voce un pochino più fuori. Se sei interessato ad apprendere molteplici tecniche di Mixi in Home Studio e guardare il videocorso completo, clicca il link in descrizione.